Tre sconfitte consecutive sul groppone da riscattare, una missione da adempiere al meglio contro un'avversaria blasonata come l'Ancona. A tutti gli effetti il turno infrasettimanale riporta in orbita il Termoli di Carnevale, che rifila un po' a Craidorici, sbloccando la contesa già al sesto, quando Puntoriere serve al centro per Ricci, che prende l'ascensore e fa 1-0. Al quindicesimo a provarci è Barone, ma senza fortuna. Tre minuti dopo, servito da Puntoriere, Barone mette fuori. Poco male per il centravanti, che si rifà con gli interessi al 43esimo, quando scatta in contropiede e trafigge il portiere Dorico per il 2-0. Nel recupero a provarci per i marchigiani è Martinello di testa. Nella ripresa in avvio, su apertura di Puntoriere, ancora Barone va vicinissimo al 3-0, che arriva puntuale al 54esimo, con Puntoriere che si prende la soddisfazione della marcatura colpendo di testa. Al 63esimo gli ospiti hanno una ghiotta chance con Belcastro, che coglie il palo. Un minuto dopo, Martinello non ha gancio e scivolata sul cross di Marino. Ma al 73esimo, sul cross di Colarelli, Barone completa la sua doppietta, salendo a quota 4 nella classifica Cannonieri, con un 4-0 firmato di testa, che chiude ogni discorso e lancia il gruppo basso molisano verso la trasferta di domenica in casa di una delle cinque leader del torneo dopo otto giornate, ossia il Chieti. Grazie. Grazie.